ciao a tutti oggi sono qua perché voglio raccontarvi l'esperienza che ho fatto in questo meraviglioso posto e dove scoprire io vado avanti scoprire qual è la mia missione di vita la mia missione di vita è tirar fuori le mie emozioni ed esprimerle su sulle tele usare i colori colori che vibrano nella mia anima che vibrano nella mia pancia nei miei occhi nel mio sorriso portare i miei quadri alle persone le persone trasmettere altrettante emozioni far vibrare i vostri cuori vostri far brillare i vostri occhi oltre a questo voglio portare la mia creatività in giro per il mondo e voglio incontrare tutti voi e trasmettervi tutto il possibile che c'è dentro di me non voglio tenere nessuna emozione dentro di me e voglio far uscire le vostre di emozioni ho scoperto anche che inizierò a scrivere il mio primo libro e so che ne usciranno altri e quindi sono felice di trasmettervi questa questa felicità questo entusiasmo contenuto fino ad oggi e per troppo tempo ci incontreremo presto e faremo festa ciao